ulteriormente particolarmente preziosi rispetto a quanto già lo siano di per sé. Non è nel senso che è stata voluta e indirizzata da varie nazioni europee dall'Europa stessa e che da noi ovviamente da luglio, se non sbaglio, ha iniziato questo percorso, mi pare c'è l'Emilia Romagna, la Toscana, più in altre regioni hanno già iniziato questo percorso, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria ed Emilia Romagna. Da martedì iniziano altri percorsi, tra quello nazionale, è solo un test, quindi non è l'inizio di un servizio nuovo, ma è testare con un di più oggi, l'apprendimento degli ordini di informazione, perché essendo un test che verrà portato in tutti coloro che saranno presenti in un'altra regione, quindi può succedere anche questo effettivamente, e probabilmente chi non è informato su questa iniziativa magari si allarma o comunque si chiederà minimamente cosa sia, cosa sta succedendo e cosa non sta succedendo. Allora, è preziosa la vostra presenza perché credo che in tutto il tempo generale per fatti, diciamo così, di particolare gravità che possono intervenire nei nostri termini. quindi questo test partirà per intanto, poi diventerà invece effettivamente operativo, ma non da questo momento, non dal giorno 12. Ecco, quindi è un'iniziativa, ripeto, voluta dal Dipartimento Nazionale su indicazioni, perché in pratica si squillerà il cellulare in maniera più strana, cioè un suono diverso da quello che solitamente è, è un messaggio tipo sms che io devo portare in strada, immagino, quindi è un momento in particolare, poi magari Stifone o non so, non so, fossero informati, e la cosa interessante è anche il fatto che non verranno interessati solo i residenti nelle Marche, questo è un qualcosa che nell'area di potenziale pericolo, quindi è un qualcosa in più, non è un'iniziativa della regione Marche, è un qualcosa che va oltre, è un'iniziativa nazionale, addirittura europea. Io qui mi fermerei, adesso non diamo credo un video, se non sbaglio.